Eravamo a letto in una giornata di ferie e ho tre bambini, uno di cinque anni, uno di due anni e uno di due mesi, abbiamo sentito uno sparo. Ho fatto il giro della casa dalle finestre e ho visto il gallo morto e mi hanno sparato in giardino. Avete capito bene, sono stati momenti di paura e tensione per la famiglia di Michele Scotton. Qualcuno ha sparato nel giardino di questa abitazione privata in località Campania, nel piccolo comune di San Nazario, per uccidere il gallo che stava nel prato. Una vicenda che ha dell'incredibile, che ha sconvolto i proprietari di casa. Immediata la denuncia, sì, perché le conseguenze potevano essere ben più gravi. Tenga conto che fatalità oggi, non ho dato da bere ai fiori, però innaffiavo quasi ogni mattina alle sei prima di andare al lavoro. Se per caso passavo, venivo preso e in ogni caso con tre bambini sono tutti terrorizzati perché hanno sentito lo sparo. Non è stato uno che abita a 100 km, è stato uno che abita qua vicino. È un dispiacere abitare in un posto in cui ti sparano in giardino. Io ho fatto denuncia ai carabinieri, ho telefonato al sindaco e ho chiamato voi. Cioè non lascio perdere, ma anche perché ho tre bambini che devono vivere in uno stato civile, non mi sembra un posto civile. Il gallo cantava le prime luci dell'alba e dava fastidio. Beh, di certo usare le armi non è la soluzione, anche perché qui la già delicata questione della legittima difesa non c'entra proprio nulla, qui è solo follia. Uno che spara ai gallo e gli dà fastidio potrebbe dargli fastidio ai bambini, potrebbero dargli fastidio a qualsiasi cosa. Cioè non penso sia un paese civile sparare a qualcosa che ti dà fastidio. Lei si è fatto un'idea di chi potrebbe essere stato? No, non ho tante idee, ma non... Perché tra l'altro San Nazario è un piccolo paese. Sì, è un piccolo paese, ci conosciamo tutti, non è che siamo in una grande città o in uno stato non civile dove ci si fa giustizia da sé, bastava parlarsi. Poi se dobbiamo risolvere come nell'America dell'Ottocento e nel Far West, arriveremo nel Far West, non so cosa dire. Davvero da restare senza parole ai carabinieri di Solania il compito di risolvere il caso.